La spia per la luce non si riesce a vedere bene, l'altra è la più comoda. La spia per la luce non si riesce. La spia per la luce non si riesce. La spia per la luce non si riesce. La spia per la luce non si riesce a vedere. E dove è Alessandro? Di là a destra, di là dobbiamo andare. La spia per la luce non si riesce. La spia per la luce non si riesce a vedere. La spia per la luce non si riesce. Siamo di là. La spia per la luce. La spia per la luce non si riesce. Ok, non si riesce. La spia per la luce non si riesce. La spia per la luce non si riesce.